E alcuni giorni prima feci delle radiografie. Il dottore le guardò, le confrontò con le precedenti e non ci poteva credere. Le riguardò ancora e disse, amico mio, sei guarito, è incredibile. Una settimana dopo era sparito ed è ancora così, non ho più dolore alla schiena e nulla più. Bruno Gröning era diventato famoso negli anni 50 come il guaritore miracoloso, quando si raccontavano guarigioni incredibili e decine di migliaia di persone affluivano nei luoghi dove operava. Voleva aiutare gli uomini, gli uomini che credevano che lui li potesse aiutare. E ho la sensazione che lui potesse davvero aiutare molti di loro e ne ha aiutati anche tanti, per quanto gli fosse permesso agire. Nonostante Gröning sia deceduto, nel 59 si verificano sempre guarigioni stupefacenti. Poi vado a questa conferenza informativa e sento parlare di una forza, di cui fino a quel momento non conoscevo l'esistenza, e poi esco di lì sana. Ho 72 anni. Nel 1973 caddi da una parete di doccia e riportai danni alla colonna vertebrale, nei punti L4, L5 e S1. I medici mi dissero che prima dei 45 anni mi sarei ritrovato su una sedia a rotelle. Non potevo stare seduto a lungo, non potevo nemmeno stare a letto, guidare la macchina. Io sono pompiere. Normalmente guido il camion dei vigili del fuoco. Era diventato molto pesante. Il lavoro era molto duro. Prendeva una quantità di antidolorifici, antinfiammatori e persino farmaci contro gli antinfiammatori, per evitare le ulcere. Mia moglie mi portò a un incontro di Bruno Gröning. Si era incuriosita a causa di una foto che avevo visto da un amico. Ad ogni modo andai all'incontro. Da allora posso fare tutto quello che voglio. Posso sollevare pesi, riesco a guidare e la troupe del film qui può testimoniare che adesso posso guidare un bus senza problemi. Adesso è di nuovo tra i pompieri. Compatte il fuoco. Si arrampica sulle montagne. Nuota. Va per la città in bicicletta. Svolge una gran quantità di lavoro. È un uomo molto forte. Come se non gli fosse mai successo niente. Siamo tanto, tanto felici. Posso solo dire che ringrazio Dio per la guarigione che ho ottenuto. Oggi il Circolo degli Amici di Bruno Gröning è una delle più grandi associazioni nel mondo che si occupano di guarigione per via spirituale. Se voi foste una persona come me, il capo di una grande famiglia e la guida di tante persone e voleste aiutare la gente, penso che quello che avete voi sia la cosa migliore. E non costa nulla. L'Einstellen mi entusiasmò moltissimo e in qualità di dottore trovai che fosse di grande importanza diffondere questo insegnamento tra gli uomini. Sono idee tanto, tanto piene di forza ed è importante riconoscerle. E quando vi accade una cosa così, allora vi rendete conto che è davvero così.